... ... 1, 2! Dai dai! Allunga forti, fermi da! Rubino! Diretti! su, al viso, al gasco al gaschetto aiuto DJ, DJ uno per la casa aiuto aiuto uno per il cazzo dobbiamo scartare dai, dai, dai vai, dai, dai uno, due e gambe una, dai, dai, dai e gambe vai, dai, dai dai, dai, dai uno, due vai, dai, dai Vieni le gambe subito, continui, 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 continui. Vieni le gambe subito, continui, continui, continui. Vieni le gambe subito, continui, 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 continui. Vieni le gambe subito, continui, 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 continui. Vieni le gambe subito, continui, continui, continui. Vieni le gambe subito, continui, 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 continui. Grazie.